In questo esercizio una ruota di massa m e raggio r generici sta rotolando con il baricentro che corre a velocità vg su questo piano orizzontale, dopodiché sale su questo piano inclinato che ha l'angolo alla base alfa. Bisogna calcolare qual è la massima altezza raggiunta sul piano, infatti la ruota sale sul piano, rallenta fino a fermarsi, per poi tornare giù. Il punto più alto raggiunto è la nostra incognita Hb, cioè l'altezza del baricentro della ruota nel punto più alto e poi troveremo anche Hc che è l'altezza del punto di contatto nel punto più alto raggiunto dalla ruota. Immaginiamo che non ci sia l'attrito, perciò si conserva l'energia meccanica della ruota. Se ci fosse l'attrito, una parte o addirittura tutta l'energia meccanica andrebbe in calore, cioè in energia termica. Perciò scriviamo la conservazione dell'energia meccanica che all'inizio nel punto A, cioè nella situazione A iniziale, è energia cinetica sia di traslazione che di rotazione, più l'energia potenziale gravitazionale. Infatti c'è anche l'energia gravitazionale perché il baricentro della ruota non si trova a terra ma si trova ad un'altezza R, dal livello H uguale a zero, cioè dal livello del terreno. Quindi come vediamo qua, la ruota viene considerata dal punto di vista dell'energia gravitazionale come se fosse la sua massa tutta nel baricentro ad un'altezza R dal terreno. Quindi l'energia potenziale gravitazionale all'inizio è Mg, altezza del baricentro in A, cioè R, Mgr. L'energia cinetica invece è suddivisa in una parte di traslazione e in una di rotazione. La parte di traslazione si calcola come se la massa fosse tutta concentrata nel baricentro e la ruota semplicemente traslasse a velocità Vg. Quindi l'energia cinetica di traslazione è un mezzo M, velocità del baricentro al quadrato. Per tener conto invece anche dell'energia cinetica di rotazione, rotazione della ruota intorno al suo centro di massa. Allora utilizziamo l'energia cinetica rotazionale, un mezzo, il momento di inerzia che prende il posto della massa e la velocità angolare al quadrato che prende il posto della velocità lineare al quadrato. Poi il momento di inerzia dipende se la ruota è soltanto la massa sul bordo e allora, quindi è un anello, una ruota che è vuota dentro, quindi Mgr alla seconda è il suo momento di inerzia. Oppure se è un disco, tutto pieno, omogeneo, è un mezzo Mgr alla seconda è il suo momento di inerzia. Quindi abbiamo scritto l'energia meccanica all'inizio. L'energia meccanica alla fine, quando la ruota sta nel punto più alto raggiunto, è soltanto energia gravitazionale. Infatti nel punto più alto la ruota non trasla il suo baricentro e nemmeno rotola. Infatti la velocità del baricentro è zero e non c'è velocità angolare. Rimane quindi l'energia gravitazionale finale che dobbiamo considerare come se tutta la ruota avesse la massa concentrata nel baricentro. Quindi Mgh del baricentro, Hb. Hb è la nostra incognita, come abbiamo detto prima, è l'altezza del baricentro rispetto al terreno. Dunque la conservazione dell'energia meccanica ci ha portato ad un'equazione di primo grado dove l'incognita è Hb. Tra l'altro la massa della ruota si semplifica essendo presente in tutti i termini. E quindi questo significa che la massa non ha nessuna importanza. Cioè ruote di masse diverse ma dello stesso raggio raggiungerebbero la stessa quota in ogni caso, anche se le masse fossero differenti. In questa equazione abbiamo tutti i dati. Infatti abbiamo la velocità del baricentro all'inizio, Vg. Abbiamo il raggio della ruota, tra poco vedremo anche come si calcola ω, la velocità angolare iniziale. E quindi basta fare la formula inversa per trovare l'incognita Hb. La velocità angolare all'inizio ω è legata alla velocità del baricentro dalla solita relazione che lega velocità lineare e velocità angolare, cioè ωr. Cioè c'è sempre di mezzo il raggio a moltiplicare tra una grandezza fisica lineare e la sua analoga rotazionale. Vediamo meglio perché è così. Nella figura di sinistra è rappresentato il punto di vista di uno che sta fermo sul piano orizzontale, quindi il disco rotola e si sposta trasla a destra. Se la velocità del baricentro è Vg, la velocità di questo punto qua su in alto è il doppio e la velocità del punto in basso è 0 essendo il punto di contatto, C-contatto. Ma quando noi andiamo a calcolare l'energia cinetica per rotazioni, avendo già calcolato a parte quella di traslazione, dobbiamo immaginare un altro punto di vista, non questo, ma il punto di vista dove il disco semplicemente ruota e non trasla, perché la traslazione l'abbiamo già considerata qua. Quindi il punto di vista del disco che ruota vuol dire come mettersi a correre a fianco al disco alla stessa velocità Vg del baricentro. In quel caso noi vedremmo il disco non traslare perché rimane fermo davanti a noi, perché noi stiamo in realtà traslando insieme al disco. E vediamo il disco che semplicemente rotola, cioè ruota intorno al suo baricentro. E in questo caso il baricentro sta fermo e i due punti A e C hanno una velocità lineare Vg. Omega è la velocità angolare di rotazione pura, rotazione pura perché, ripeto, stiamo correndo a fianco alla ruota e quindi vediamo il baricentro della ruota fermo rispetto a noi. Quindi è una rotazione pura, rotazione pura in quanto abbiamo già considerato la traslazione a parte. Quindi rotazione pura, la velocità angolare di rotazione è legata alla velocità lineare dei punti sul bordo da Omega R. Perciò conosciamo anche Omega, basta prendere la velocità del baricentro e dividerla per il raggio della ruota. A questo punto abbiamo tutti i dati e ricaviamo l'incognita Hb. Come ultimo approfondimento vediamo come si ricava Hc, cioè l'altezza del punto di contatto. Qui c'è un ingrandimento della ruota sul piano inclinato, noi dobbiamo trovare Hc conoscendo Hb. Hc è più corta di quanto rispetto ad Hb, è più corta di questo tratto colorato in rosso. Quindi Hc uguale Hb meno questo tratto rosso che è R coseno di alfa. Infatti l'angolo alfa del piano ce lo ritroviamo qua e questo cateto è in questo triangolo rettangolo, qui c'è l'angolo retto, il cateto che dobbiamo calcolare è quello adiacente all'angolo. Quindi si calcola ipotenusa R per il coseno dell'angolo alfa. Quindi con questa formula, una volta calcolato Hb, possiamo calcolare Hc, l'altezza del punto di contatto.